giovedì 20 giugno 2024 buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa buongiorno buon giovedì oggi un giovedì importante giornata importante perché oggi saremo insieme in diversi appuntamenti alle 13 in diretta ma non mancatevi oggi parliamo parleremo di milan se non disfo la casa naturalmente parleremo di milan e parleremo della nazionale e poi appunto l'appuntamento di questa sera con gli azzurri allora nell'intervallo della partita tra italia spagna 21 50 circa con half live il post partita su youtube quello canonico e poi la diretta la live post partita per commentare insieme a caldo ciò che accade e ciò che è accaduto anzi questa sera nella sfida tra noi e gli spagnoli 366 11 129 64 il numero di telefono per i vostri vocali whatsapp e allora cominciamo con cominciamo con un'accusa oggi prima di vedere la prima pagina dei giornali ma si cominciamo con un'accusa nei vostri confronti perché vedete ogni tanto siete un po superficiali e io ve lo devo dire io avrò tutti i miei difetti ma li avete anche voi allora cosa succede succede che se voi continuate a scrivere sui social che leao fa schifo che leao se ne deve andare che col portogallo è stato il peggiore in campo la gazzetta vi legge la gazzetta vi legge poi fa questa roba qua milan rebus leao l'arabia ci pensa ma deciderà tardi cedere ottenere un agente al lavoro con lal hilal a oggi nessuna offerta in caso di proposta oltre i 100 milioni si apre il dilemma ecco vedete è questa colpa tua questa colpa tua perché loro scrivono anche un po sulla base di ciò che tu vuoi leggere quello che vuoi sentirti dire perché devono un pelino a ruffianare a ruffianare il pubblico questa colpa tua io te lo dico poi vedi tu gazzetta dello sport in generale quindi partiamo dalle cose oggi importanti ovvero l'italia e il grande ritorno dei fotomontaggi ci siamo già imbattuti in casa lukaku che ovviamente adesso sospesa in attesa degli europei ma tornerà anche casa lukaku nel frattempo tornano i grandi fotomontaggi della gazzetta dello sport se battiamo la spagna vinciamo il girone il torero spalletti e le sue mosse quello che ha guardate lucianone vestito da torero non è l'abito buono questo però è quello che ci si può sporcare a ghelsenkirchen stasera le 21 scopriremo se e come faremo strada il pari tra croazia e albania ci aiuta ecco qua gli azzurri con poi la sfida a jamal e nico william se chiesa dribbla che si passa ma di là ci sono i maestri e poi ieri la vittoria della germania contro l'ungheria che proietta i tedeschi già agli ottavi e poi ieri sera il pareggio tra la svizzera e la scozia juve arrivo l'intesa per douglas luiz si sta dunque per concludere il trasferimento del centrocampista alla juventus via barrene cea e healing e complimenti alla juve un bello un bel colpo questo corriere dello sport noi con voi la spinta di 20 milioni di italiani davanti alla tv naturalmente per battere la spagna alle ore 21 qui la risultanza all'inno dei nostri spalletti pronti a sporcarci l'abito loro forti ma non devono sopravvalutarsi la croazia flop 2 2 con l'albania nell'intervista poi francesco calzona che dice la nazionale unanima miro la gestione feroce di luciano l'italia a tutto per fermarli e tra l'altro direi importanti anche le parole della fuente il commissario tecnico della spagna che ha detto insomma noi loro siamo sullo stesso siamo allo stesso livello detto insomma ho usato delle parole molto rispettose nei nostri confronti un po di mercato douglas luiz alla juve ora ci siamo in brasiliano impegnato in coppa america che attenzione comincia questa notte certo non so dove le infilerò le partite della coppa america mia moglie un posto ce l'avrebbe ma non si può dire perché è molto volgare anche perché gioca alle due stanotte quindi si vedranno gli highlights va bene allora dicevamo douglas luiz alla juventus rafa marin al napoli il difensore proprietà del real madrid e poi richelme c'è l'offerta della roma la trattativa è aperta andiamo a tutto sport è tutto sport che titola facciamo l'italia eccolo qui gesenkirchen contro la spagna dal gioco show servono coraggio e umiltà da campioni d'europa una sfida che va oltre il calcio spalletti dice convinti nelle nostre qualità con l'abito bello ma pronti a sporcarlo e dunque queste sono le prime pagine dei quotidiani italiani perché poi anche in giro per in giro per la spagna si parla della partita di questa sera su as bella la copertina che titola è il classico d'europa eccolo qui vedete un po un po di giocatori un po di protagonisti di questa sera poi su mondo deportivo il taglio alto e roca versus azzurra ecco qui vedete per la sfida di questa sera e direi anche basta possiamo andare agli approfondimenti allora allora due bacchettati via sulla questione deao e allora andiamo agli azzurri italia vai a testa alta spalletti spinge barella scamacca la super spagna ci dirà chi siamo gli azzurri in cerca di bel gioco e autostima contro una rivale al top se vinciamo passiamo come primi nel girone la formazione dunque dopo tanti tanto vociare di esperimenti di cambiamenti anche rifacendo ci ricorderete nei giorni scorsi sui giornali a precedenti commissari tecnici che cambiarono un po rivoluzionare un po la squadra la seconda partita spalletti va con la praticamente la stessa formazione della prima gara ovvero donna rumba in porta di lorenzo bastoni calafiori di marco in difesa barella giorginio e frattesi a centrocampo con chiese pellegrini un po più esterni e poi scamacca la davanti per quel che riguarda la spagna dovrebbe essere una e simone carvajal e norman naccio e cucurelia in difesa quindi la stessa difesa con la croazia rodri e fabian ruiz a centrocampo insieme a pedri lo stesso centrocampo con la croazia e poi amaldico williams e morata lo stesso attacco con la croazia dunque tutte e due le squadre giocano di fatto dovrebbero giocare di fatto questa sera con le stesse formazioni affrontate che hanno utilizzato nella prima giornata naturalmente servono i dribbling chiesa ci prova ma è da solo contro yamal e nico williams e gli azzurri sono quelle che tra le grandi tentano meno l'uno contro uno gli spagnoli sono dei maestri cosa dicevamo ieri ieri parlavamo no del fatto che ci sono anche delle nazionali alcune che giocano di squadra per cercare di fare ciò che nel calcio è più importante cioè creare lo spazio o lo fai di squadra lo fa individualmente la spagna lo fa un po un po ma anche individualmente l'italia lo fa molto soprattutto con con il gioco ecco le due i due commissari tecnici allora della fuente dice siamo pronti a lottare questa sfida potrebbe essere la finale di un mondiale un europeo per tradizione e per livello quando guardo l'italia mi sento come davanti allo specchio i punti in comune sono tanti dice luis della fuente e poi c'è spalletti che dicevano anche aggrediti abbiamo la chance di giocare la nostra gara sarebbe un errore pensarli più forti di quel che sono in campo aperto loro sono micidiali le difficoltà saranno le preventive sulle ripartenze e poi anche altre cosette delle quali magari parleremo poi in mattinata e dunque in attesa di conoscere l'esito della partita di questa sera nell'importantissima parte di questa sera importante non solo per la classifica ma anche proprio per darci il polso della della situazione rispetto a un girone che si è molto complicato per la croazia ieri 2 a 2 con l'albania la croazia la paura fa 95 l'albania pareggia nel recupero modrice sul filo ci batte o è fuori laci porta avanti silvigno nella ripresa ribaltone con cramari c'è un autorete poi di asula segna il pari finisce 2 a 2 tra poco vediamo anche la classifica prima parliamo della germania la germania la germania felice ecco la germania felice magari per la divisa non lo so sarà felice anche per quello il presidente della federazione tedesca è stato bundi che la maglietta più venduta degli ultimi 150 anni della nazionale tedesca sarà vero speriamo per loro insomma musiale gondogan stendono l'ungheria i tedeschi convincono e sono già gli ottavi padroni di casa superano il secondo test in scioltezza un gol per tempo e parate decisive di noier niente da fare per la squadra di rossi dunque ungheria praticamente con un piede e mezzo fuori con un piedino e mezzo fuori forse anche la scozia però riesce a trovare il primo punto di questo europeo fa 1 a 1 in nella sfida con la svizzera capolavoro di shakiri un bellissimo gol nato anche da un'ingenuità difensiva della scozia e gli ottavi sono vicini gli elvetici sorridono i britannici per passare adesso devono battere l'ungheria e poi c'è il programma di oggi programma di oggi pervede altre due partite naturalmente da una parte alle 18 la sfida tra l'inghilterra e la danimarca ed è una sfida da premier con insomma tanti giocatori della premier league anche nella squadra danese dall'altra parte alle 15 invece la serbia contro la slovenia per cercare di restare in corsa ecco la slovenia che arriva da un punto fatto proprio con la danimarca la serbia invece della sconfitta con gli inglesi dunque questo è il programma della giornata di oggi un'occhiata velocissima alla classifica del gruppo dell'italia che insomma è piuttosto semplice spagna in italia 3 albania e croazia 1 e dunque molto farà la gara di questa sera gara di questa sera della quale parleremo nel corso della giornata così come di tante altre cose nell'appuntamento live delle 13 quindi vi aspetto a luna e poi questa sera nell'intervallo della partita post partita su youtube e live post partita per parlare insieme di italia spagna buon giovedì a tutti